Sì ho visto Ok ora Sì in teoria Però lo visualizzate di seguito Ok Domande Se uno scrive ciao Noi gli dobbiamo rispondere No non lo dobbiamo cagare Dobbiamo anche disprezzarlo Perché c'è scritto domande C'è scritto domande No che poi si si gira con la camera E diventa Guarda ti faccio vedere La mia attività Cosa gli scriviamo Ci siamo Dov'è? Ho cancellato Gli stralunati Che invasione Te li ricordi? Quelli della Ferrero Gli ex terrestri allegri Noi stiamo Ok Ok ci risiamo Ci isiamo Madonna Madonna è impedito sto uomo Ma cosa fai? Paggia di me Ci isiamo Un punto è venuto Sì tipo scherzato Bella È un coglione Ora non entra più Perché gli siamo Scusa Magari c'è scritto Ti diamo Ti do Sì dai Poi sembra Guarda che non ti è che so sul Perché poi quando finisce il video Rimane tutto registrato Vabbè ma mica si è sentito Dici? Ma non penso Ciao Ciao carissimo Ciao carissimo Ciao carissimo Ciao carissimo Ciao carissimo C'è ma Clio Vattene a casa Vai a lavare i pavimenti Quattro Sì però se entrate in due Facciamo una gangbang No ora sa vedere che ci stanno scrivendo Ma noi non vediamo Non è caduta la mia tetta Prova in chat Ragazzi ma dove scrivete Sti commenti Sperando che tu realizzateli Segui Guarda come sono bella Non c'è una cosa che ha scritto Commenti Prova chat Prova Dove è? E' una domanda e risposta E' quella Vai a vedere Se ti scrive Così vediamo Ma come hai appena scritto Ma noi Io vediamo un po' dei ciufoli Ma noi Io vado a prendere la mia tetta Non vediamo nulla Oh ho fatto clacca Che la mia elasticità Non ha limiti Ma che scazzolo Sì vabbè ma dai Non si può Sembriamo solo stupi Cioè sembriamo Siamo stupi però C'è Google effect Chat Condivisione schermo Domande e risposte Capture E cameraman Do cazzo Sono queste domande Prova a scrivere Sbraboobbi qua Tipo Sta fa treffi Io Io Gigi Vediamo se ci rispondi Vabbè ma cazzo Da qualche parte Da qualche parte Riprovo Ho scritto E' tipo se io Ho scritto Poverina Ma sicuramente Scriverei cose poeticissime Ma a Youtube Guarda Niente di scureggiare Col bandocino Cele ti chiediamo scusa Ma non Io sicura Io guarda Questi domande e risposte Ti dico preventivamente Sì è vero Però Non sappiamo dove C'erano i vostri commenti Provo a fare F5 No non vorrei che uscisse Però F5 F5 No 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 Non ho paura E cosa farebbe F5 F5 aggiorna Però io ho paura Che non È giù che hai storti Dani Sì Fai Allora qui non c'è niente Scusa Domande Tu ci sei sempre che dici fraffa fusti È qua sicuro dai È prima Chiedi al pubblico di inviare domande Verranno visualizzate di seguito Ma di seguito dove va sto cazzo Beh poi su spam No spam È tipo quando qualcuno fa una domanda a spam Domande con risposta Domande Non riusciamo a capire Provate a scrivere Ho scritto Ma guarda che lei sente Non c'è bisogno di scrivere Ah già c'è ragione No lui deve scrivere Ho scritto dicendo ho scritto C'era ci senti Sì È un po' come quando faccio le videoconferenze con Ambra Che lei non mi vede Io la vedo Lei mi vede il muro Ma è sempre molto emozionante Non so Non so Regolo ti dice No Per mio Guarda 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 Rimane con noi Incorpora Che cos'è secondo te? Quando vai di corpo Non so Non niente Ragazzi ci dispiace Non sappiamo assolutamente dove Sì vabbè ma non si possono fare queste figure di merda Dove vedono scritte Un certo Da mantenere Allora chat Noi abbiamo scritto A che ora abbiamo scritto? Alle 21 Alle 21 e 8 Google T Cioè voglio dire Nessuno che ha risposto al tuo Google T Ti ha buoni Il tuo non lo leggo E noi ne legiamo i tuoi Che bello Viva la tecnologia Che unisce i due mondi Cazzo ma Controlla la visibilità di altri partecipanti? No ma non è niente Sai questo Tramite questo Aspetta Aspetta Puoi mostrare Nascondere i partecipanti Alla tua No Non ce ne frega Non ce ne frega niente Domande e risposte Condivisione schermo Chat Ma aspetta un attimo Qui cosa c'è? Niente Te ne ho messi di lati Ha ristretto il quadro E basta Regola l'utilizzo della larghezza di banne Impostazioni Ma scusa eh Ma perché fa tutto così complicato? O forse siamo noi troppo stupidi? Ma sì Probabilmente Però Cioè potrebbe essere un po' più semplice Invita persone Espandi Sì no E tu Ma non è niente sai Sì vabbè Ma dai Cioè Non si può far sta fiducia Sicure di me E noi adesso Diciamo che Stavamo per fare Delle fellazio Ci stavamo fellaziando A vicenda Ma invece Io non so davvero dove Dove leggere le cose Un saluto a Celestina Che ci scrive ma Scusa Fai un forza e coraggio a Celestina Ce l'ha a bifede Ce la faremo Ce la faremo Perché sembriamo stupidi Magari all'apparenza Ma poi Conoscendoci bene Da Conoscendoci e lo spettatore No 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 Eh sì ma Quindi vedi il contenuto Deve scarmo con gli altri Chat Non lo so Sì vabbè ma non ci potevamo Non fumare figlio Io non ho assolutamente idea Allora disattiva microfono Attivo Disattiva videocamera Regola l'utilizzo della larghezza di banda Impostazioni No Quello che ho visto prima io Eh sì Chiudi Cioè ma magari ci stanno scrivendo Cioè veramente Ma sicuro Ho capito ma cazzo Ma da qualche parte Dovranno pure essere Poveri poveri Cioè abbiamo schiacciato Tutti i tasti che sono Nello schermo Sì vabbè ma però Ma però Guarda guarda guida Sai che ora si può dire ma però Davvero? Sì Che bello Guida Con un gatto Puoi inviare messaggi in foto Apri un gatto Un gatto in diretta No sotto Ah scusa Un gatto in diretta Trasmettere Eh Eh come scureggia con l'albio Dio Un gatto Un gatto in diretta Un gatto in diretta A tua trasmissione dal vivo Bene Successiva domanda Quando intratemi stare posso usare le mie immagini Quante persone posso operire Che cosa succede sulla protezione Posso espellere qualcosa Tu ti riesco a chiacchierare tranquillamente Inviti i spettatori Quante persone Come faccio a invitare Come faccio a vedere Lo posso trovare come posso Sì vabbè Persimi Siamo veramente persimi Niente Applicazione domande Consente di porre domande all'ospite Durante l'hangout in diretta Solo l'ospitante della trasmissione Può scegliere di attivare l'applicazione L'abbiamo attivata Può anche visualizzare le domande Le risposte dell'ospitante Dopo l'hangout in diretta Riproducendo il video Per porre una domanda Stai l'ospitante Vai giù Ha attivato l'applicazione domande Vedrai la sezione a destra Del hangout in diretta In cui puoi porre le domande Per pubblicare una domanda Fai clic su file Una nuova domanda Ma non è forse Ma non è quello C'è ma una chat semplicissima Bene Scrivici di quanto Scrivili su facebook I commenti Facciamo vedere che ci siamo riusciti Almeno Che scazzo Ma scusa Cele Tu non hai un tastino Con scritto chat? Noi abbiamo chat di gruppo Ma perché mi piace E non risponde Quella bagiara lurida Cele ci senti? Facciamo una canzone Dedicata a Celestina Celestina Cele 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 Se senti Un messaggio Si dove? Oh La cazzula Alla cazzulele diciamo se si buca con ma guarda che mi viene nervoso si perché cioè ne abbiamo fatte due poi rimangono registrate sembriamo stupidi no esce se lo scritto visualizza commenti cioè tu non ci senti sto scrivendo ah si ci sente ma non viene scritto il chat sai eh no scritto no vuol dire che non ci sente e lascia commento dove sto scrivendo no l'ha scritto chat perché gli ho chiesto se usciva l'ha scritto chat ma tu l'hai scritto qua ci senti però cioè l'audio lo senti lascia commento l'audio lo vedi c'è lei dimmi se l'audio lo vedi vabbè lo senti quando è il tuo fai della figura del chat certo ovvio chiaro si vi vedo e vi sento bene ok allora quindi tu stai andando stai scrivendo su lascia commento guarda per favore lascia commento cioè ci sono tre tasti di merda non è che dovremmo andare a vedere qualcuno che sta facendo la chat in diretta come si fa? ma io l'ho vista della chat in diretta io commentavo come si commenta normalmente cioè è nei commenti proprio sembrava così semplice dalla parte dell'ospettatore mi sto ancazzando bene devo dire che siamo molto 20 minuti che non abbiamo fatto un cazzo niente senti io ci rinuncio non so più che tasti di schiacciare sto schiacciando gli stessi ma perché? aspetta allora capture lo foto scadate con hangout capture ma che cazzo me ne frega boio ladrissimissima come dice Michael Rini non conosci mai Michael Rini? no? chi è? è un youtuber simpatico google effect aggiungi app o magari c'è commenti ti immagini ma non deve essere un'app allora uno fa la cosa in diretta per cosa? per parlare per parlare con se stesso guardando se è un camera è una rucola tra i denti non hai uno specchio scusa ma domande e risposte è un belino no niente ma cos'è sta a fare di merda? è la foto sai ora forse anche sta merda oh grazie molto bene ma noi possiamo rispondere vediamo no ma non è che no sei volte viene tagliato clicca qua sul blu ma non è che sei parlato ma non penso bene allora si vedete mi sento l'offa mi sta scrivendo c'è scritto lascia un commento eh ma il computer è uno eh ma come almeno che noi ne entriamo col tuo account su youtube eh cosa dovrebbe cambiare? eh non lo so fatti e poi hai scritto hai lasciato il tuo ma non è che il commento lo lascia sul video tipo quando il video è pubblico allora ti lascia il commento e non ci appare in diretta eh no perché la gente risponde in diretta se no cosa la fai fare la diretta? appunto e ma cosa cioè ciao numero due per favore se tu sai come invia feedback a google cosa può essere? scrivi gli siete delle merda a google il feedback è come su ebay quando compri una cosa non ci riusciamo scrivici ti metto una mano nel culo sì sì mi fa piacere spettatore numero due qualsiasi cosa tu abbia scritto eh noi non riusciamo a vedere dove sono i commenti quindi scrivi lo stesso perché almeno no cioè se qualcuno riesce ad aiutarci ma come fanno ad aiutarci se non possono lasciare i commenti? non sappiamo assolutamente dove reagire i commenti e quindi dove rispondere cioè ma non c'è proprio eh domande risposte chat cioè se è presto a cazzicolo tutti i comandi aspetta per elencare tutti i comandi disponibili scrivi eh dove è lo slash? no no ah sì slash slash punto di dove cazzo è il punto? ok allora si attiva? ma va a culo non serve un cazzo non serve a niente non ti dice niente volete vedere il mio anno? lo volete vedere? dai lo so giusto per intrattenermi però mi faccio vedere le mie mutande del si si fai vedere a Celle il tuo pacco Celle vuoi vedere il pacco di Daniele Lucicero? mostra il pacco poverine in effetti forse è meglio vostrarla adesso che non vediamo i commenti così almeno nessuno mi vuole ti immagino ci sono scrivendo siete dei roiti si fate chi fa cazzo siete dei cugnoni noi ciao a tutti i spettatori bellissimi ma io le faccio vedere il pacco Celle Stia cosa? beh ma al massimo mi alzo io eh che c'è no dobbiamo capire guarda mi sto incazzando è inutile stare così no? si no celestina celestina mi dè un po' la patatina fino a sera te la mangio col bigni scusa ora si moriamo a uno niente non che siamo a Natale limite a Carnivale questo è il pre-Carnivale ho perso il pallone eh c'era tutto il cazzo tu con sta fiesta eh ma sono come bambini sai che mi muoci devi raccogliere le giocate ti direi questo yeah ora arriva a fumare c'è c'è sette otto c'è Alessina c'è Alessina che schifo lascia nelle mani si ha una polverina strana che schifo che schifo i gondoni io non so quali abbia usato ma la polverina nei gondoni no quello è un tume ma perché io li compro di seconda mano ah quindi già usati e riconfezionati tu compri c'è Alessina c'è Alessina perché ti ciucci quello che rimane sì sì tipo sai il calippo quando arrivi fino al fondo che mi chiedi che schifo che schifo c'è un po' è finito c'è un po' è finito da c'è un po' patatina non sappiamo assolutamente come si fa ma scusa ma possiamo aprire la diretta e chiudone in questa maniera e cosa ne ha mai stare così no così sembra carino niente ti faccio la testa assolutamente niente guarda Celle ci dispiace ma allora al prossimo mi piace che metti Ambra no ma secondo me è in botta vuoi dire che il computer è in botta? ma no non penso che sia il computer cioè usciamo e rientriamo ma di nuovo tra le registrazioni cioè ci sono questi due poveri cristi una è celestina l'altra sarà celestina con un altro computer perché ci facciamo pena grazie Celle per aver acceso i tuoi computer oh guarda 15 spettatori si posso ci caccia chat niente scusa tu entrati nel nostro pubblico? dai mi spoglio dove c'è l'Ital Google? in la home? si allora scriviamo come vedere commenti come visualizzare commenti hangout madonna ma scrivo veramente di merda hangout in diretta youtube come no come faccio vedere come ma dai ci siamo gli unici che noi riescono a vedere nessuno lo chiede perché deve essere talmente si è come dire come fa scrivere ma cazzo ma noi abbiamo come scrivere Google su Google cioè una cosa prima noi abbiamo schiacciato qualsiasi chiunque sia che diri come fa salutino io sono da sola sì l'altro secondo me è un cieco sordo muto che ha cliccato per sbaglio perché gli è caduto sotto la mano il mouse niente quindi ma a me sembra strano cioè non può essere così difficile youtube è semplice madonna che è successore una volta non c'era nessuno quando c'è qualcuno non riusciamo a scrivere i commenti che cazzo ah no sono quelle che abbiamo visto prima eh sì ci sono dei rumori in quanto molesti in questo edificio sarà il fantasma ma può essere dai ti immagini si sbruca il fantasma in diretta ci scrive lui la domanda ce la fa lui la domanda il fantasma compri mi app lo compresse lo compri muta riprovo calma lezzi considero le persone di aiutare altre persone computer watch youtube video together io ci picco per colpa va bene va bene quindi quindi che cazzo è cambiato devo scorreggiare tra l'altro c'è le scuse ma rimarrà una cosa a tre non applicare spam niente non non so se scopriamo che il tuo computer mi hanno fatto una figura di merda ma come può essere una figura di merda come può essere il mio computer cioè io ho assistito a delle dirette basta fare un commento come un normale commento di un video e sono qua sono tutte qua più che andare su chat ti piacciono i miei orecchini con la zip non so cosa dire ma tu ti ricordi c'è un tastino con scritto chat no veniva fuori una cosa del genere ah forse sì però era uguale così venivano tutti i commenti a fila e la persona legge e risponde perché c'è è molto semplice mica l'ha sentita anche lei no mi è ritornata in in corpo in circolo non ho mangiato la pizza con le cipolle è normale petare dopo la pizza con le cipolle vabbè ovvio cioè chi non scorregge dopo la pizza con la cipolla non merita di vivere vero dai no infatti che cazzo lo mangio a fare uno mangia una pizza con la cipolla per scurigliare davanti agli altri se non la sei infatti quando sono da sola prendo la marinara e faccio la marinara con l'ai ah ma sti vuoi una pompa? lo ripeto vuoi una pompa? vuoi una pompa? pompa 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 che dobbiamo fare? I don't know datemi una pompa perché mi sento un palloncino pompa pompa datemi una pompa voglio volare nel cielo alpino pompa pompa datemi una pompa dai dedica una canzone a Celestina su fai il romantico fai io voglio sapere come si scrive acqua e seme mi fai bere c'era che canzone vuoi che canto? acqua e seme mi fai bere acqua e seme mi fai bere quella di Mina è Celentano Celentano con un rutto mi trattieni il sedere come farà mai a trattarti il sedere con un rutto? eh te l'ho tirato talmente forte che te lo oh 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 non lo so non so se non avete che fare cioè io proprio vorrei di chiudere e riaprire poi le cancelliamo queste se non sono veramente molto buzze le facciamo così ma secondo me non cambia niente secondo me non cambia proprio niente ma non è che non abbiamo attivato qualcosa? no perché? chiudi e rifacciamo riproviamo, scusate